Musica Angiolina e Beatrice in piazzale San Francesco 20B a Terranova Bracciolini vi aspetta per le vostre acconciature di tutti i giorni e per le occasioni speciali e vi ricorda che il 24 dicembre sarà aperto dalle 8 alle 16 e per il fine anno vi aspetta dalle 8 alle 16 per prepararvi alla notte di San Silvestro Angiolina e Beatrice in piazzale San Francesco a Terranova Bracciolini vi augurano Buone feste a tutti! La Torrezzeria Fratelli d'Uva in via Vittorio Veneto a Terranova Bracciolini vi aspetta per tutte le vostre cisenze E da Alessio e Stefano Buone feste a tutti! Vuoi addobbare il tuo albero di Natale in modo originale? Vuoi abbellire la tua tavola con oggetti ricercati? Vuoi realizzare ceste regalo personalizzate da dare ai tuoi cari? Da Ferini Gift in via 22 Luglio sotto la Torre a Terranova Bracciolini c'è tutto questo e i consigli adatti per le vostre feste Ferini Gift vi augura Da Ferini Gift Buone feste a tutti! Buone feste a tutti! Grazie a tutti.